buona domenica a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo appuntamento con le news della settimana il format del canale più amato da wolf e luca i due iscritti in assoluto più fortunati del canale per quanto di voi non sanno a che cosa mi stia riferendo vi invito a recuperare la live che c'è stata venerdì sera con ospite gianluca del colosso dei nerd.com abbiamo parlato un po di tutto di novità abbiamo riso scherzato e c'è stato un piccolo gioco sul finale in cui wolf e luca sono stati proprio i protagonisti adesso ragazzi veniamo a quelle che sono le novità un po più croccanti un po più importanti di questa settimana soprattutto sul fronte 1 a 6 action figures o action doll in scala 1 a 6 comincerei come al solito con hot toys con dei rilasci delle release di doll già annunciate prima fra tutte tony stark nella sua mark 7 e in particolare la suite app version la versione quindi suite app in cui l'armatura si va a montare addosso a tony stark tratta da marvel's avengers non mi ci soffermerò tantissimo ragazzi potete vedere voi la qualità nel scult che non mi sembra affatto male e l'armatura che può essere non completamente indossata quindi non avete un iron man vero e proprio con l'armatura indossata ma è una suite app ce ne sono state già altre per altre mark e questa ragazzi non è altro appunto che la versione per la mark 7 in cui si va a simulare la scena in cui tony si butta dalla stark tower e poi quindi l'armatura gli si va a montare addosso da oggi quindi ragazzi disponibile seconda release sempre per hot toys stavolta ci spostiamo su star wars ed in particolare su ahsoka la serie dedicata ad ahsoka qui abbiamo il night trooper uno dello stormtrooper diciamo un po riciclato con qualche vendaggio di colore rosso addosso qualche crepa sull'armatura chi di voi ha visto la serie saprà anche il motivo non voglio spoilerare niente se ancora ci fosse qualcuno che non l'ha vista e anche questo night trooper stormtrooper come volete chiamarlo ma in particolare si chiama night trooper un soldato del capitano enoc che potete vedere adesso a schermo quasi di spalle anche lui disponibile io sinceramente ragazzi non l'ho preordinato e non penso di recuperarlo poi una sorpresa sempre per quanto riguarda star wars sempre la serie tv ahsoka il rilascio stra anticipato di violence call un violence call che era stato annunciato a marzo del 2024 quindi appena sei mesi fa ed era previsto se non mi sbaglio per il primo secondo trimestre del 2025 stavolta invece hot toys ha deciso di fare le cose un po modo suo quindi a cazzo di cane molto spesso e quindi ha anticipato questo violence call la notizia ovviamente mi rende molto felice perché ho fatto il preordine di questo personaggio mi piace particolarmente anche all'interno della serie ma ancora non c'è traccia di shinati quindi la sua compagna spero che venga rilasciata il possibile anche lei così da poter appunto accoppiarli in collezione e anche questo ragazzi secondo me un bellissimo personaggio sembra fatto abbastanza bene e quindi non vedo l'ora di riceverlo poi andiamo avanti invece con quello che è il primo ed unico annuncio di questa settimana anche questo un po a sorpresa io personalmente non me lo aspettavo il nuovo venom venom tratto dal fumetto quindi la sua versione comic e che dire ragazzi secondo me è veramente molto molto bello ha fatto storcere un po il naso a molti il fatto che ci siano le articolazioni in vista ragazzi ma per il momento non vedo come vedo un altro modo in cui avrebbero potuto farlo sicuramente in futuro verrà aggiornata questa cosa ci saranno dei corpi in silicone insomma in qualche altro materiale che non permetteranno di mostrare le articolazioni però articolazioni che tra l'altro è solo sulla spalla e non sul gomito secondo me è davvero bellissimo va a riprendere quelle che sono le fattezze del venom appunto del fumetto con i suoi occhi particolari la lingua il logo sul sul petto sul torace davvero secondo me è molto molto bello e per quanto mi riguarda purtroppo non credo che lo prenderò ci sto pensando perché sto già aspettando la release di quello tratto da marvel spider man 2 quindi quel bestione di 55 centimetri che spero venga rilasciato il prima possibile perché non vedo l'ora di avere le collezioni questo punto non so se lo prenderò soltanto per quel motivo anche se mi tenta tantissimo perché davvero bellissima per venom trattandosi di una nuovo annuncio andiamo a leggere giusto due specifiche stiamo parlando della comic masterpiece 0 23 di 39 centimetri quindi se lo volete ragazzi cominciare a fare spazio perché è bello grosso 20 punti di snodo rilascio ultimo trimestre del 2025 primo trimestre del 2026 non c'è molto da dire accessori abbiamo qualche abbiamo un paio di pugni un paio un altro paio di mani abbiamo una basetta con tutto il simbionte quant'altro quindi una sorta di base di orama che poi non è in realtà una base di orama e poi abbiamo tre tentacoli quindi simbionte accessori simbionte con due ma non so che cosa sia ragazzi e un'altra testa insomma sono le teste simbionte che si possono attaccare sono ovviamente con il il filo e quindi possono essere sistemate come volete sulla schiena di vero sono queste qui che vedete in questa immagine ditemi voi che cosa ne pensate ragazzi perché secondo me è molto molto bello questo vero non venom e quindi questa versione tratta dal fumetto mi sorprende non me l'aspettavo ma è davvero molto bella quindi fatemi sapere voi se la prenderete so che molti anche degli iscritti al canale sono un po in crisi perché la vorrebbero in tanti però ecco ditemi voi che cosa ne pensate ultimo ultima novità sempre per hot toys è questo annuncio ovvero per la la celebrazione la star wars celebration che si terrà in giappone nel 2025 se non mi sbaglio ad aprile non vorrei dire una cavolata ma dovrebbe essere ad aprile verrà annunciato worldwide quindi tutto il mondo galen erso non ho capito bene vi dico la verità se galen erso che per chi non lo sapesse il personaggio di roguan sempre star wars roguan non ho capito se sarà disponibile solo per quell'occasione lì molto probabilmente sarà così oppure se verrà lanciato in occasione di questo evento molto probabilmente secondo me sarà disponibile soltanto lì e quindi ragazzi se avete la fortuna di recarvi in giappone per questo evento prendete bene propria anche per me ok poi andiamo avanti con un altro annuncio lasciamo da una parte otto is questo è fresco fresco io oggi sto registrando di sabato sabato tra l'altro 19 ottobre c'è questa novità la parte di infinite statue che ha introdotto questo nuovo brand che si chiama maestro quindi una nuova linea e sono molto contento di questo una nuova linea di doll in scala 1 a 6 che dovrebbero essere delle doll definite da loro luxury quindi di lusso e non sto a leggervi tutto ragazzi potete leggerlo anche voi ma in un riassunto è quello che troveremo all'interno di queste doll presto andranno a svelare anche quelle che sono le licenze che hanno già disponibili per queste doll saranno fatte a mano con capelli innestati occhi quindi il pers outfits quindi vestiti in vera pelle corpi in silicone base magnetica di orami e anche la scatola dovrebbe essere di lusso quindi le premesse sembrano appunto essere fenomenali quindi non ci resta che vedere quali licenze abbia infinite statue per adesso non ha delle licenze particolarmente ambite per quanto ne so però vedremo che cosa va ad affricci sicuramente sarà qualcosa di lusso appunto qualcosa di molto competitivo anche sul mercato che si sa la competizione a volte fa molto molto bene poi veniamo al pezzo rosso di questa settimana sono sui colosso di nerd.com per parlare della catwoman catwoman di jatsink che tanto abbiamo aspettato che tanto stiamo aspettando ancora sono finalmente usciti i preordini catwoman sarà disponibile jatsink di jatsink di oramas sarà disponibile in in realtà quattro versioni più c'è una quinta con un double pack adesso le analizziamo la prima è questa intanto vi ricordo che è possibile essendo comunque un'azienda europea è possibile preordinarle anche sul sito di jatsink direttamente farà in automatico il calcolo dell'iva in base al paese poi dovete pagare solo le spese di spedizione invece poi ovviamente sono disponibili anche su il colosso di nerd.com qualora voleste farle direttamente da gianluca abbiamo quindi la prima versione che questa clean quindi una versione pulita con questa con un solo head sculpt la base di orama che vedete alle sue spalle non è inclusa ragazzi quindi abbiamo questa versione poi ne abbiamo prima vi faccio un vi faccio un escursus diciamo di quelle che sono le versioni poi abbiamo una versione sempre clean ma deluxe deluxe con qualche accessorio in più e tre teste intercambiabili questa cosa come vedete c'è anche il giornale ci sono i gatti e gli artigli sono per tutte insomma niente di particolare per quanto riguarda la quantità di accessori per la deluxe poi avremo anche una versione battle damage che è questa che secondo me è stupenda con capelli innestati la maschera rotta e il body ha delle leggere delle leggere rotture sulle spalle a altezza delle spalle delle ginocchia però più o meno il body è lo stesso di quello della versione clean il che fa pensare al motivo per cui abbiamo fatto una versione clean e una versione battle damage con tre teste soltanto una versione deluxe perché vediamo anche adesso che anche per la versione battle damage la versione deluxe ha tre teste intercambiabili personalmente mia opinione personale vi è gradito magari una versione con una testa clean e una testa battle damage in questo modo diciamo che insomma tre teste costano quindi anche il prezzo è un pochino gonfiato proprio dalle tre teste e non so sempre a parere mio ragazzi non so effettivamente quale sia l'utilità di tre teste differenti però comunque il prezzo è incredibile è bellissima quindi nulla da dire e poi ovviamente ragazzi c'è la versione con entrambe le versioni deluxe in un unico pack al prezzo colosso dei nerd 1249 euro andiamo invece proprio sul sito di il colosso dove vediamo i prezzi di tutte le varie edizioni singole abbiamo la versione clean quindi a 419 la battle damage sempre standard 449 poi abbiamo la clean deluxe 579 e la battle damage deluxe 629 come già detto 1249 per il double pack con entrambe le versioni deluxe che dire ragazzi io a me piace tanto questa catwoman non sono ancora sicuro se prenderla o meno è davvero bellissima e sarei orientato più sulla battle damage probabilmente la deluxe anche se ripeto a parer mio sarebbe stata una mossa molto più furba andare un pochino a mischiare le due cose so bene molti di voi diranno eh ma poi non si può mettere la testa battle damage con un corpo clean sono d'accordo sono d'accordissimo però diciamo che i danni sulla tuta sono talmente marginali in questo caso che poi le foto non si vedono proprio bene 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 ragazzi ma quello che sembra è che i danni non siano così accentuati i danni dal battle damage quindi in questo caso io personalmente avrei fatto uno strappo alla regola e avrei preferito un prezzo molto più basso cioè un po' più basso in favore appunto di una doppia testa una testa clean e una testa battle damage e bella e festa finita però questa è la mia opinione personale fatemi sapere invece la vostra qui sotto nei commenti una rapida occhiata su ilcolosso.net.com per gli ultimi arrivi abbiamo questa spilza di Ichiban Show di Masterless dedicate al primo Dragon Ball sono bellissime ha il prezzo abbastanza modico e mi piacciono tanto anche queste sono una forte tentazione per me abbiamo già visto la Catwoman c'è anche ovviamente Maestro Roshi Maestro Muten poi una serie di McFarlane di statue in 1 a 10 dedicata ai vari personaggi della Marvel e poi c'è questa edizione limitata di Gandalf il Grigio che vi pongo all'attenzione magari dategli un'occhiata se volete detto questo ragazzi spero di non essermi prolungato troppo ma penso di averlo fatto le cose di cui parlare erano tante e in particolare mi interessa sapere la vostra opinione un po' su tutto ma in particolare voi lo sapete su Venom e soprattutto Catwoman vi ricordo è possibile acquistare Catwoman senza ulteriori costi doganali su Jatsink oppure come avete visto su ilcolossoninerd.com per il servizio e tutto il resto di cui vi parlo sempre ultimamente ragazzi quindi già sapete fatemi sapere voi che cosa ne pensate su quale Catwoman siete orientati e per il resto ragazzi non mi resta che salutarvi e dirvi che ci vediamo i prossimi appuntamenti del canale che saranno probabilmente dei video qua e là durante la settimana poi giovedì con il solito unboxing e domenica prossima per un altro news della settimana ciao ragazzi buona domenica e buon inizio settimana